e buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti ragazzi oh c'ho un botto di gente, situazione relativamente complicata, abbastanza preoccupante stiamo giocando come prima, vai che andiamo e vabbè 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 allora è festo, è festo, è festo devi ammazzare questo figlio annazzi, festo lo devi proprio scannare si, si, balla balla pezzo che avrà mi adesso arriva è festo, ti apre un'ala, ti apre no, è troppo difficile non è neanche questo? ti sto pure applicando, no, no, ma noi non si deve preoccupare è ancora vivo sto bot ecco, va troppo la lì è troppo 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 difficile sono scalini sono come sono scalini? eh sì, ho confuso i quartieri no, 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 deve venire al quartiere assolutamente subito proprio vabbè scalini eh, figlio di una stasnordi che c'è la minica figlio di quanto quanto, madonna adesso arriva adesso arriva e vi spana la lana tutti e due bot del posto vabbè, l'hai detto anche io e sono morto in un bot ha ragione, ha ragione, ha ragione ha ragione, ha ragione ha ragione signori ci godremo un super partitone di festone go crazy, go stupid go crazy cos'è che sta facendo questo minchia, tony hawk sullo skateboard era questo 75 no, non lo vedo, non lo vedo sotto di te, sotto di te 76 wow, oh, oh qua l'ha un po' rischiato, eh, festino cosa fa? oh, c'è il ciacone, c'è già no, lol lololololol 33 blu inh bianchissimo però, raga è bianchissimo, è super white e se tanto sei super white adesso crepi pezzo di noio comunque che questi sono venuti dal nulla ragazza italiana ma sapete che avete le mamme che vanno a vendere la pasta vero raga altro giorno sono nato dalla madre proprio tua e tu che mi stai guardando snappo c'era la fila perché andare dal salumiere e pigliavo ugualmente la situazione non è assolutamente migliorata siamo 1v1 calmi un attimo solo lo mando un po i pazzi lo mando no raga sto panicando sto panicando sto panicando oh sei morto brutto sono morto io sono morto io sono morto io sono morto io no raga non è forte che non riesco a muovermi non ho materiali ho perso e raga raga ho il panico parco diaz non riesco a muovere le mani ho il panico non era forte non era forte non era forti anzi 14 kg e ora scusate stavo panica raga stavo panicando raga e avevo le mani avevo le mani avevo le mani raga sono morto questo gioco mi fa incazzare l'ha fatto lei io non ho fatto un cavolo dai ho sparato un miliardo di volte però f ho sparato un miliardo di volte f io voglio veramente pensare che questa cosa non è successo mai solo con lei che mi viene la soggezione f ci ha visto come vengono subito botto pingando 130 sta pingando 130 porco schifo mamma mi fa un cazzare mi sto nervosendo anch'io sto nervosendo anch'io 130 30 30 quello la oh gg con tre colpi in faccia gg troppo convinto sono entrato raga non so troppo che non so troppo che questo qua una terra da noi mi piace mi faccia brutta dramma mmm come ti piace di qualche te lo ha detto ragazza dai martis ho uno di vita gg ho le bandano bello questo non so come non so come abbia fatto gli ho fatto un 80 al volo meraviglioso bella bella però bella questo 80 al volo raga gg p gg p g gg bravo ragazzi cosa mi ha stronzo la mano bravo 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 cascama c... è entrato è entrato cristo è entrato gg gg colpa mia 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 E ne fuori che sono già là! PORCA PUTANA! Ok lol, ok lol, 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 claro, claro, è giusto! Oh, stavo provando tutte le cose, raga! Stavo provando tutte le cose, e stavo esploso, esploso il robot! Stavo provando tutte le cose, esploso il robot, raga, non mi colpa via! Dentro, oh, c'è gente che ha preso il pump! Molto sad! Ma stai col... Ok, GG per il tipo che mi ha sparato fuori! A FEW MOMENTS LATO! La dignità! Arrivo, 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 arrivo! Pump contro panteria! Arrivo, arrivo, non si pro... Non si allarmi, non si allarmi! C'è uno che mi sta inser... Questo qua secondo me sa dove sono! Ammazza un'arma, è sconvolto! Missa! Missa! Dai, non mi faccia ridere! Non mi faccia ridere! Dai, F! Dai, F! Sei un bastardo! Mi fa ridere! Dai, F! Mi fa ridere! Non riesco! Mi viene l'ansia! Dove sei, stupido bot? La dietro a sinistra! La dietro a sinistra! La dietro a destra! No, no, la dietro! La dietro! Torni indietro! Torni indietro! Qua a sinistra! Qua dietro sei nascosto! No, ok! Allora, vado avanti! No, vado a salvare lei, F! Non mi faccia... No, no, non ce la faccio! E allora quitiamo e rifacciamo! Ah, vabbè, guarda! Ah, ma il crowd put! Mi fa... Miss! 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 Non ce la faccio! Non ce la faccio! Eh, vabbè, li facevo notare... Non ce la faccio! Mi fa venire l'ansia! Non riesco a spararli se mi dice Miss! Se sei una cosa, se sei un... Una live! Eh, ma tua madre è quella... È nato! È nato a fare exiluzione! Ma tuo padre... Quello spazzo... Ha nato! Pezzo di grande... È nato! È febbra di azz! Io ti ammazzo, fenicottero! Adremi! Tua madre è quella... Ha snorzaglia! Sì, va bene, figlio di un fenicottero! È white, F Dio santo! È super white, sto figlio di... Mi è sceso addosso con un... Voduto pump... Si è subito... Ma dai, vabbè, dai... Cos'è che giochiamo di nuovo? Giochiamo a FIFA, F... Miss! Miss! Eh, nella tempesta... Mi vada a salvare la scheda, per favore! Sta sciopendo dei danni pesanti dalla tempesta, F... Dai, vabbè, però questi sono... Vabbè... GG! Se è il fenicottero o F veramente, guarda... Non ho parole... Ha droppato frame, eh? Madonna, non ce la faccio più, però... Ogni tre secondi frizzò, orto schifo! Stia calmo, stia calmo, stia calmo, stia calmo, stia calmo, stia calmo, stia calmo... Perché mi sta... Mi sta salendo il Cristo! C'ho la Madonna di... Del campanile di Milano che al posto che ti dà le braccia al cielo, si tiene le braccia sulle orecchie... Fra poco... Se vado avanti così... Se vado avanti così... Che? Allora... Che?